Amici non voglio mentirvi dicendovi che questo è uno dei progetti più carini che io abbia mai fatto, ma andiamo con ordine Questo è un quadrato 12x12, voi direte ma che schifo di quadrato e io vi darò ragione Ma tranquilli che ora in questo mini quadrato, per prendere un po' le misure, ci andremo a fare un bel villagiozzo in miniatura Tipo quello lì che vedete in lontananza Perciò, allora mi sono preso tutti i materiali iniziali, poi ne andremo a prendere altri nel mentre 1, 2, 3, 4 e 5 e ci andiamo a scavare, con la palla magari e non con l'altra, quanto ha distrutto la palla non ne avete idea Ci andiamo a scavare il sentierino Praticamente voglio creare un mini mini villaggio, pollettino si allontani, come quello nella realtà Boh, l'idea mi è venuta totalmente a caso, ma ho pensato è una mega figata Cioè ma tipo mega mega mega, perché alla fine ci sta il villaggio gigante dei villager, ma anche un mini villaggio 12x12 esce una mega figata Nella mia testa è strabello, l'ho già riprodotto e ora lo dobbiamo fare semplicemente su Minecraft Sentiero fatto, non è su uno di tro... no dai, sentiero Ok, sentiero ora davvero fatto e questo è il mio sentiero Potete copiarlo, potete farlo come volete Ognuno sceglie a modo suo come farlo E questa è la parte più stupida Ora che abbiamo fatto il sentiero, ci mettiamo sopra la parte così E voi direte, ma Master, ma se è uno stupido, potevi farlo subito? Io vi dico, sì è vero, ma tanto c'ho tanta di quella terra da buttarla via per sempre E il resto lo andiamo a chiudere con la terra Perché deve essere un villaggino, almeno per come lo voglio fare io Sopraelevato di uno e non sulla terra base Perciò andiamo a chiudere il tutto Quindi Master del Editing vede di fare un piccolo tagliettino Ma uscirà una figata se non guardate il video fino alla fine Perché è proprio una bomba, cioè una bomba Una mega bomba questo video E no, non metterò il meme dell'esplosione Va bene, metto il meme dell'esplosione Siete contenti? Beh, io sono contento, è sempre bello il meme dell'esplosione Ora, per fare il board avrei potuto mettere dei blocchi Però ho pensato, nah, dei blocchi no Perciò guardate la tecnicozza Botole di abete, perché ci stavano bene Che vanno a creare il board Belli, bravo Master Yes! Bravissimo, bellissimo così Sì, sì, mi sono fatto i complimenti da solo E quindi andiamo a farci il bordo bellissimo così Però l'angolino Dovrò trovare un qualcosa per l'angolino Ho sentito un rumore stranissimo Molto probabilmente voi non l'avete sentito Ma era tipo un Che cos'era amici? Aiutatemi a non impazzire su Minecraft Vabbè E ci facciamo tutto tutti i board I polli vedo che sono proprio attiratissimi dal mio villaggio E lì tra l'altro c'è anche il mini crewmate O impostore, dipende dai punti di vista Che avevamo fatto anche in live Quindi seguitemi su Twitch Se anche voi volete partecipare nella mia vanilla Poi vi spiegherò il tutto in live Comunque, figata Vediamo dall'alto com'è un attimino Per vedere la situazione Figo Fighissimo Non figo Fighissimo Ora scendi mega palata Prossima costruzione Continuiamo Allora ho fatto un piccolo pozzo Il piano era di lasciarlo così Però stavo pensando di fare una roba del genere E metterci sopra sono andato a prendere le lastre di slabs Di pietra Le lastre di pietra Ci può stare? Allora il pozzo così ci sta Le lastre Boh Per ora le lascio Magari le tolgo alla fine Se mi viene un'idea migliore Però Carino Però adesso ovviamente Pozzi a parte Volevo fare Diciamo la cosa bella Che rende questo un villaggio Ovvero La faccio spostata di uno Sì dai Una sorta di casettina Tipo così Vediamo se esce Beh Ok va bene va bene Questa è la base ovviamente E invece ora qua ne voglio fare una gigante Tipo il pattern è sempre quello Quindi così così Poi ne metto una qui Che è ok E andiamo a chiudere L'ho presa la cobblestone Ti prego di me Sì l'ho presa i ciottoli magici Le andiamo a mettere qua così Ok E voi direte Ma che cagata Tranquilli Ci penso io Finirà malissimo Però ci proviamo Perché con l'aiuto delle nostre scale No Con l'aiuto delle nostre scale Volevo fare una roba del tipo Così Così No Allora questa è meglio metterla così E questa qua la volevo invece girare Per di qua Ok Oh vedete Vedete che sta già uscendo E questa invece la mettiamo Spalla contro spalla Oh bellissimo Ma basta sbagliare a mettere le scale Ok Sta uscendo come nella mia testolina Vediamo Ok Ok E per concludere ci facciamo una casettina Anche a bordo strada Dovrebbe uscire sempre il solito così Tec tec Dai carino Bello come villaggio Ora andiamo su in alto come prima Dovrebbe Dai carino Molto bello Ovviamente non è finito ma Molto molto bello C'è anche un lupo Lo devo addomesticare Ricordami master di addomesticarlo Volevo fare anche una sorta di fabbro Quindi 3 4 5 6 Mettendo della cobblestone Non delle scale Bensì della normale cobblestone in terra E mettendo le scalettine al contrario In questo modo Quindi una così Una così Così Una fence tattica E qua sopra Potevamo farci tranquillamente Un tetto Sono andato a prendere le lastre di pietra Per fare appunto il tetto E qua metterci la fornace Così Ci può stare Però si attacca Sì in realtà ci sta la fornace Sapete cosa? Ci stava tipo una testa Però non si può prendere Quindi va bene Dai ci sta così Per fare gli alberi invece Avevo in mente questo Cioè guardate che fighi Potete metterli ovviamente dove volete Tipo uno qua Poi uno Boh non lo so a caso Tipo qua Ovviamente Più ne mettete Più è carino Cioè in realtà non è vero Però potete metterli comunque dove volete Tipo qui Poi uno qui in centro Che proprio dà fastidio E uno qua Al lato Carino Saliamo Dov'è la mia terra? Perfetto Terra Beh Carino Molto carino Bello bello Molto veritiero Più che altro Sembra proprio un bel villaggione E ovviamente che fai? Te ne privi dell'erbetta Quella tattica Quella fastidiosa Che dici Non avevo voglia dell'erbetta Nel mio villaggio Però sai che c'è l'erbetta No non te ne privi Quindi ne mettiamo un po' Non vorrei esagerare In realtà un po' qua Un po' qua Ci siamo tutti? No dai Alcune le togliamo Tipo qua E qua A caso fuori Via Perfetto Che se no c'è troppa erba nel villaggio E può dare fastidio Agli occhi Lo ammetto Può dare fastidio Però per ora sta prendendo forma Il mini villaggino Molto carino Bellino A clausini Ho spostato l'alberello Ho messo la farm Ma mi ero dimenticato Della campana Che voglio mettere Dovrebbe essere in bella vista Questa ci stava a farlo Un blocco indietro Potrebbe sbagliato Ma la campana La metteremo Qua? Sì Ok Carino No c'è un creeper No raga c'è un creeper Ok Potrebbe essere la fine Potrebbe essere una tragedia Potrebbe finire Tranquillamente No Ok Villaggio comunque finito E dai è stracarino Tipo che ti senti un mega gigante Dai bello mi piace In realtà avevo pensato Anche di fare quello Del deserto Lo facciamo adesso o no Mucca cosa mi dice lei Allora Facciamo di no Dai torniamocene Al coso Al magazzino Dove concluderemo il video Se volete riprodurlo È una mega stupidato Comunque se lo sapevate già fare Vi ho fatto venire In mente un'idea Su come farlo In modi particolari Vabbè avete capito Torniamoci Perché c'è un blocco rosso Amici Perché c'è un blocco rosso Ok Ma che bello Che è il mini crewmate Stupendo Quindi ce ne torniamo Al magazzino Mi metto giù le cose Spero che quel villaggino Vi piaccia Fatemi sapere nei commenti Come migliorarlo Tipo il fabbro Ci sta Però magari al posto del coso Potrei migliorarlo Non lo so Me lo farete sapere voi Nei commenti E tra l'altro Seguitemi su twitch Perché andremo a finire Qua ci metto questo Andremo a finire La stradina La faccio con voi Entrate nel mio mondo Guardate cosa avete creato Eh che figata Ecco facciamo così Al posto di andare nel magazzino Vi faccio vedere Cosa abbiamo creato Su twitch Così magari voi Volete fare un salto E aiutarmi Dai molto carina Molto carina La concluderò con voi C'è molto Molto da fare Per ora Siamo arrivati fin qua Se non sbaglio Si Strabello Ci sta GG boys Quindi io salvo Ed esco Mi tolgo le cuffie Come alla fine di ogni video Spero che appunto Questo video vi sia piaciuto Vi ringrazio ovviamente Per la visione Nel prossimo video Andremo a costruire Quello con la sabbia O magari in live Non lo so Vediamo Vi ringrazio Vi do appuntamento domani Al solito ora Verò le due e mezza Con un nuovo video Ciao Che figo il mini villaggio Woo Ciao 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 exhaustive